Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento per noi mattutino. Qui a Las Vegas sono le 7.14, in Italia le 17.14, sono 9 ore avanti, voi siete avanti in Italia. E dunque un piccolo saluto mattutino per voi appunto pomeridiano, presto torneremo in Italia, non vi preoccupate per chi ci ha scritto, quando torni in Italia. Grazie, grazie a tutti quelli che hanno scritto, sono stati tanti ieri, che apprezzano il nostro format di far vedere un po' il mondo, nelle prossime ore saremo ancora in strada e vi faremo vedere altri luoghi, vi faremo vedere San Diego, vi faremo vedere ancora un po' della California. È un format che ci porta a vivere il Milan quotidianamente fuori da quegli schemi che sono precostituiti con uno studio. Noi facciamo gli youtuber, non facciamo i giornalisti, quindi da questo punto di vista ci piace pensare che lo youtuber sia l'uomo di strada, il pensiero di strada. Ecco, il Milan è il pensiero quotidiano di strada. Grazie a quelli che si sono iscritti, anche ieri tanti, e a chi si è abbonato, ci saranno presto dei nuovi format. E dunque vi ricordo anche Romanzo Milan, il nostro libro qui sotto, link in descrizione, lo potete trovare a Amazon, ve lo porta a casa. Fateci sapere un po' quando l'avete letto, se vi è piaciuto, e quante domande avete risposto, perché qui ci sono oltre a leggende, curiosità, cose segrete del Milan, insomma anche tante domande. Ripeto, qui sotto potete trovare iscrizioni, abbonamenti e il link in descrizione ancora, il libro. Dunque, che cosa sta accadendo al Milan? Perché ci sono delle cose che in queste ore stanno oggettivamente portando alla fine di un calciomercato che è stato lungo e stenuante, anche per noi, perché non abbiamo le tempistiche come youtuber per poter dire ogni 5 minuti una cosa. Gli short non sono sufficienti, quindi bisognerebbe fare davvero un video ogni 10 minuti, perché è stato e continua ad essere un calciomercato davvero come una lavatrice, un calciomercato troppo veloce, in entrata, in uscita, con tratti chiusi, chiusi ma poi stracciati, insomma, ne sono successe di ogni. Sta per terminare, il Milan l'immagine che ho di una bella torta che manca però della ciliegina. Non lo so, c'è qualcosa che oggettivamente alla fine non mi ha soddisfatto appieno, ma mancano ancora alcuni giorni, per cui sono convinto che in quella bella torta verrà messa una bella ciliegina. Dobbiamo parlare del calciomercato, dicevo, in alcune cose, perché per quanto riguarda l'uscita, abbiamo detto dell'addio di Salema Kerra, che a me dispiace, invece la decisione è presa. Per quanto concerne, invece, Yassin Adli. Yassin Adli resta, è stata una volontà del mister Pioli, mi chiedo che cosa abbia visto Yassin Adli, visto che non l'ha fatto mai giocare. A me piaceva quando ho visto le sue partite nella precedente esperienza, ma in questo caso spero di poterlo vedere presto ancora in campo. Bene il Milan per quanto concerne la questione Calolù, no al Bayern, per cui l'Inter ha dovuto spendere di più, quindi almeno questa beffa piccola, grande beffa, gliel'abbiamo servita su un piatto d'argento. Per quanto concerne invece la copertina, arriva la domanda che faccio tutte le volte. Avete visto la copertina? Beh, se avete visto la copertina vuol dire che sapete che se il mercato del Milan, o se non lo sapete ve lo dico io, il mercato del Milan in questo momento, se lo vogliamo definire fermo, possiamo definirlo fermo a causa di Orighi, a causa anche di Caldara. Stavo rileggendo qui sul libro Romanzo Milan i giocatori più costosi della storia ed ero divertito dal fatto che al quinto posto c'è il nostro buon Caldara. Il buon è sempre ironico, qualcuno mi ha detto perché dici buon? È ironico. Eccolo qui. Il buon Caldara è il quinto più pagato della storia del Milan, una delle grandi sole dateci dalla Juventus. Al primo posto, pensate, c'è Bonucci, la seconda sola data dalla Juventus. Attenzione, caro Milan, perché nella tua storia sei macchiato un po' da queste sole che la Juventus ha dato. Poi dopo io le chiamo sole, se ci sono altre questioni noi, appunto, youtuber di strada non lo sappiamo. Per cui dobbiamo considerare che Gerry Cardinale è coerente su questo. Dice che il mercato bisogna che si autoalimenti e per autoalimentarsi ha bisogno di uscite. In questo caso, sì, ad alcune uscite un po' più semplici, ma in questo caso invece Orighi e Caldara, ho messo Orighi in copertina come simbolo, in realtà andava messo anche Caldara, rappresenteranno la tribuna d'oro, la tribuna d'oro, no? C'è la poltroncina arancio, la poltroncina blu, la poltroncina verde, invece due poltroncine d'oro che in qualche caso ci dovranno dire perché non hanno accettato piuttosto la panchina per questioni economiche, per questioni relative ai soldi. Ora, apro e chiudo una parentesi che c'entra poco con la vicenda Milan e riguarda la nazionale italiana. Ve l'avevo promesso ieri, riguarda appunto il buon Mancini. Mancini alla fine si è svelato tutto un blef. Non è vero che c'erano dei disaccordi con il Presidente della Federazione, che a prescindere a me non piace e per me si deve dimettere, ma non c'erano questi dissidi, non c'era nessuna questione relativa al proprio entourage, è una questione puramente economica. Tanto è vero che il Sindaco di Pesaro ha fatto una proposta politica per togliere la rappresentanza turistica a Mancini della regione Marche. Mi sembra un atto dovuto politicamente, per cui penso e spero che ciò accada. Ma l'ipocrisia non mi piace, perché così come non mi è piaciuto Mancini, devo dire che il mondo però va verso quella direzione. Allora, ritorno alla Rosa, la Gazzetta dello Sport, che è sconvolta da questo atteggiamento così vicino al denaro. Ma, cara Gazzetta dello Sport, hai esaltato Cialanoglu, hai esaltato Chessi, hai esaltato tutti quelli, Donna Rumma, che per soldi se ne sono andati dopo un romantico avvio della loro carriera al Milan, su tutti Donna Rumma. Un ragazzo nato, cresciuto e pasciuto con il Milan, poi ha avuto una grande offerta, e tu che cosa dici sulla Gazzetta dello Sport e come fa a rinunciare? Ora, non fare ancora più l'ipocrita dicendo ma la nazionale è la nazionale, non facciamo queste ipocrisie, non servono in niente. La verità è che è tutta una questione di interessi sportivi. Mancini ha fatto l'interista, e cioè ha tradito. E' nata così l'Inter, per cui ha fatto quello che era nel suo DNA. Chiudo dicendo che dunque speriamo nelle prossime ore di un Caldara e di un Orighi che vadano altrove per poterci sbloccare e comprare quella famosa ciliegina. Da Las Vegas per ora è tutto, ci sentiamo nelle prossime ore, ciao!